Un saluto a tutti i videoascoltatori di Italia Medievale. Oggi abbiamo il grandissimo piacere di presentare un saggio appena pubblicato dal Mulino, dal titolo Le Crociate, l'idea, la storia, il mito, di Antonio Musarra, che è docente di storia medievale alla Sapienza Università di Roma e che io ho il grande piacere di avere come nostro ospite e al quale, come mia abitudine, lascio subito la parola in modo che ci racconti di questo libro su Le Crociate. Quindi prego Antonio, a te la parola. Grazie Maurizio, buongiorno, buongiorno a tutti e tutti gli amici di Italia Medievale per me è un piacere tornare qui in questo salotto, che ormai è diventato un salotto abituale, diciamo così, per presentare quello che è appunto il mio ultimo saggio, Le Crociate, l'idea, la storia e il mito, che ha un background, diciamo così, particolare. Tutti direte di che cosa si parla? Si parla di crociate, va bene, questo l'abbiamo capito, ma è il modo in cui se ne parla che differisce bene o male sia dalle stesse cose che io stesso ho scritto in precedenza, sia da quello che è il panorama della pubblicistica dedicata alle crociate, in grosso modo degli ultimi 20-30 anni, diciamo così. Perché questo libro nasce innanzitutto da un'esigenza, che è quella di fornire a studenti, studiosi, uomini di cultura, uno strumento agile, ma informato e aggiornato, da cui partire, per mettere le basi, da cui mettere le basi, tramite il quale mettere le basi per approfondire quella che è una disciplina, la crociatistica appunto, che negli ultimi 20 anni ha avuto un vero e proprio exploit, un'esplosione di pubblicazioni, un'esplosione di studi e ricerche, non tutte come naturale che sia del medesimo valore, questo bisogna dirlo. La necessità dunque di mettere un punto fermo. Che cosa è necessario sapere per intraprendere la lieta carriera del crociatista, come si suol dire, senza scadere in eccessi di alcun tipo, sappiamo che è una strada anche pericolosa e fragile, in qualche, da un certo punto di vista, e ponendo basi che siano solidamente scientifiche e soprattutto aggiornate. L'esigenza, questa esigenza è nata fondamentalmente dai miei corsi universitari, che ho tenuto negli ultimi anni, due anni e mezzo alla sapienza, in parte a distanza e in parte in presenza, devo dire, sono stati gli anni più cupi forse della pandemia, che mi hanno costretto in certo qual modo a riflettere, a tirare le somme di questa vasta congerie di studi. Non è un caso se molti miei studenti, molti di coloro che in questi due anni e mezzo si sono laureati col sottoscritto, sono citati direttamente nell'introduzione. È stato uno studio comune, un tentativo appunto di mettere dei paletti. E come diceva Dracula, peraltro. E detto questo, appunto, l'esigenza di fornire agli studenti un manuale che non riportasse unicamente le vicende, di cui appunto possiamo leggere ovunque, dai testi di Jonathan Rilley Smith a quelli di Jonathan Phillips, a grandi volumi come la trilogia in Italia ridotta a due volumi di Stephen Ransom, che ormai naturalmente ha una certa età, sino a grande, la grande opera di Christopher Thiermann, Le guerre di Dio, molto schiacciata sul dodicesimo secolo, devo dire, ma comunque interessante. Quindi non era necessariamente la mia esigenza di fornire agli studenti una narrazione dei fatti, ma un inquadramento differente che andasse accogliere innanzitutto quelle che sono quelli che sono i capisaldi della formazione dell'idea di crociata prima della crociata stessa, ribattendo in certo qual modo ad alcune pubblicazioni importanti che hanno fatto scuola ma che non mi vedono particolarmente d'accordo. Mi riferisco ad esempio a Jean Flory al suo legare strettamente la crociata all'idea di guerra santa e di riconquista di Gerusalemme. Sì, ma bisogna specificare in che cosa significa guerra santa. Se possa la crociata essere una guerra santa, la guerra santa va in questa direzione, io mi trovo proprio in disaccordo con Già Flory da questo punto di vista. E altre questioni, insomma, quindi capire innanzitutto qual è la radice dell'idea attraverso un percorso che ora magari vado brevemente a illustrare senza svelare troppo naturalmente. Quindi calare le vicende all'interno di questa cornice senza la quale le vicende stesse non possono comprendersi con un'attenzione particolare non solo al dato prettamente bellico, sì, la crociata come guerra, no, non solo a questo ma anche al fatto che essa è e continua ad essere per tutta l'età medievale una forma peculiare, su cui andrà fatto un approfondimento specifico di religiosità che caratterizza il nostro medioevo. Quindi cercare di cogliere in che maniera l'idea di crociata si sia sviluppata anche a seguito e in concomitanza della sua realizzazione pratica nel corso del tempo, partendo dalle fonti attraverso le quali noi possiamo cogliere quella che è quello che è il sorgere di un vero e proprio mito attorno alla crociata stessa, che ripeto nasce con la crociata, quindi nasce proprio dalle fonti della prima crociata, che però prosegue nel tempo modificandosi di conseguenza seguendo appunto l'iter che la crociata compie cavalcando i secoli, sino ad arrivare al cuore pulsante dell'età moderna, io l'ho chiamato nel libro il secolo della crociata, quell'ottocento che ci ha fornito, se vogliamo, buona parte della visione che della crociata abbiamo avuto sino ad oggi. Ecco, questo è l'evoluzione finale del volume. Quindi un volume che fondamentalmente è tripartito, secondo proprio il sottotitolo che assieme al mulino abbiamo voluto dargli, l'idea, la storia, il mito, con un grande sforzo, quello di comprimere il tutto in appena 300 pagine, che per uno studioso a volte anche eccessivamente sovrabbondante è veramente un crimine, ma si è rivelata più che altro una sfida. Allora, dicevo, alcuni temi innovativi. Una visione, questo libro trasmette una visione della crociata che è personale, che è frutto, e qui lo voglio citare in prima battuta, di una lunga discussione, di una lunga frequentazione che ho avuto con quello che su questi temi posso a buon diritto considerare il mio maestro, che è Franco Cardini, con cui qualche anno fa pubblicammo una prestigiosa strenna, una strenna in una prestigiosa collana, sempre diretta dal mulino, il grande racconto della delle crociate, che mi ha permesso, devo dire, di discutere quotidianamente di determinate tematiche con grande consonanza, ma non sempre sulla stessa lunghezza d'onda, cosa che è sempre naturale, sempre qualcosa di positivo, no? Per il dibattito storiografico, ma dal quale comunque io posso dire di avere appreso moltissimo, e che appunto ha fornito l'occasione, assieme ai corsi universitari, di approfondire ulteriormente la materia. Quindi un volume che cerca di dire, rispetto a quanto è scritto fino ad oggi, qualcosa di nuovo, o comunque di puntualizzare e tematizzare alcuni momenti che ancora faticano a entrare in circolo all'interno della storiografia sulle crociate in Italia. Cito solamente qualche tema che poi il lettore ritroverà all'interno del volume, la partecipazione italiana, su questo elemento siamo ancora molto indietro. Si può dire che fondamentalmente il solo Cardini abbia approfondito in parte questo argomento, in parte vi ho dedicato, vi dedicai a suo tempo la mia tesi di dottorato con un focus su Genova, ma è ancora un elemento su cui è necessario scavare. Gli italiani sono visti dalla storiografia internazionale sulle crociate, che oggi ha come punto di riferimento la Society for the Study of the Crusades and the Latin East, questa società nata ormai qualche decennio fa, di cui io faccio parte come membro del Consiglio Direttivo, per cui ho il polso della situazione. Ebbene, la storiografia internazionale è ancora stenta a considerare quella italiana una partecipazione crociata a tutti gli effetti. Possiamo dire che gli italiani siano ritenuti soprattutto per la loro caratterizzazione commerciale, cosa che assolutamente è vera, ma non possiamo ridurli a una mera trasposizione di merci da un capo all'altro del Mediterraneo. Gli italiani apprendevano anch'essi la croce, sviluppano anch'essi una ideologia crociata che in gran parte deve essere ancora studiata e approfondita. Questo è uno dei temi appunto se non innovativi su cui bisogna spingere, bisognerà spingere in futuro. Altro tema importante che il lettore troverà è lo stretto legame fra crociata e riforma della Chiesa. Anch'esso un tema non inedito, pensiamo ai lavori di un grande studioso come Karl Erdmann, i crociatisti lo conoscono, inizio nel Novecento, o altri come Codri e vi dicendo, però un tema che si è del tutto perso, soprattutto nella storiografia degli ultimi trent'anni, che ha approfondito separatamente questi ambiti. I crociatisti hanno studiato la crociata senza quasi mai fare riferimento al contesto della crociata, menzionandola in qualche nota, chiaramente, ma è chiaro che, e questa è la proposta forte, la crociata è un prodotto, tra virgolette, della riforma della Chiesa. Io la leggo esattamente in questa ottica, proponendo anche una spiegazione che mi pare plausibile nell'ambito del balletto di poteri tra papato, impero, papato e clero imperiale. Non solo, mi spingo oltre, ma qui Maurizio io vi annuncio già il tema di uno dei miei prossimi libri, un libro di ricerca che ormai porto avanti dal primo giorno in cui sono entrato in sapienza, si tratta proprio del mio progetto di ricerca da RTB, come si dice adesso, ricercatore a tempo determinato, che appunto è iniziato dunque qualche anno fa, legare il tema della crociata, il tema della riforma, al tema che ha caratterizzato la storiografia italiana, possiamo dire da Giochino Volpe in poi, ma no, diciamo da prima, da Cattaneo, anzi dall'ottocento in poi, sicuramente dall'ottocento in poi, quello dei comuni. La comunalistica non si è mai occupata di crociata o di idea di crociata. È a buon diritto, forse direte voi, ma in realtà questo il fenomeno della nascita dell'autogoverno cittadino che poi prenderà il nome collettivo di comune, ma non certo all'inizio di questa propria storia, si collega strettamente sia al contesto della riforma che è al contesto della crociata. Come direte voi, beh, leggete il libro. Questo e leggete anche, cercherò di spiegarlo a Maurizio nel prossimo, materia non semplicissima, che uscirà sempre per il mulino dedicato a Urbano II e le città del Regnum Italia. Già dal titolo qualcosa di molto noioso. No, non è vero. Si può scrivere in maniera storiograficamente attenta, ma anche narrativamente accattivante. Questo ne sono assolutamente convinto. Quindi, crociata, riforma comune, costituiscono un po' il mio ambito di studio attuale, uno dei miei ambiti di studio attuali, e anche, se vogliamo dire, la novità all'interno della crociatistica, soprattutto della crociatistica italiana, ancora di più all'interno della crociatistica internazionale, che di tutto ciò non sospetta assolutamente nulla. E questa sarà un po' la sfida, diciamo così. Il tema delle masse. Un altro tema che ricorre un po' all'interno del volume, soprattutto nella prima e nella seconda parte, la crociata è stata letta soprattutto da studiosi anglosassoni, penso ad esempio a Christopher Tierman e a quel fortunato libretto L'invenzione delle crociate, uscito in traduzione qualche anno fa, soprattutto nel suo carattere istituzionale. Christopher Tierman ci dice che non si può parlare di crociata prima del tredicesimo secolo, nel momento in cui il papato la istituzionalizza, comincia a elaborare un diritto della crociata. Uomini come il mio conterraneo Silvaldo Fieschi, Papa Innocenzo IV, o il cardinale Ostienze, cominciano a elaborare una visione della crociata dal punto di vista canonistico. Questo è senz'altro vero, ma non è questa l'unica anima della crociata. La via italiana, la crociata, anche qui debitrice di Franco Cardini, devo dire, ha sempre tenuto conto dell'anima più prettamente movimentistico, popolare, se vogliamo. Tutto ciò che attorno alla crociata ruota in termini di aventure cavalleresca, in termini di escatologia, in termini appunto di mito. Questo elemento è un elemento estremamente importante che nuovamente, a mio avviso, si lega alla riforma della Chiesa, nel momento in cui, con la crociata, le masse rientrano in scena, ritrovando il proprio posto all'interno della religiosità medievale, che era stato in certo qual modo sottratto loro dall'istituzionalizzazione della religiosità che aveva avuto luogo nel corso della riforma stessa, con questa separazione, la faccio naturalmente breve e semplice, tra appunto il laicato e il sacro mediata dalla casta, vogliamo usare un termine duro, clericale. Ecco, con la crociata le masse recuperano quel rapporto con il sacro che era stato loro per il primo millennio, se vogliamo, della storia cristiana e che avrà uno sviluppo ulteriore tra dodicesimo e tredicesimo secolo con la nascita degli ordini mendicanti, che nascono proprio dal laicato in sé e che non a caso hanno un ruolo peculiare nello sviluppo stesso della crociata in sé all'interno delle masse popolari. Questo è un altro tema che, appunto, cerco di mettere a fondo. Per terminare, poi, ne cito un quarto, ma come avete avuto modo di vedere, è un testo piuttosto ragionato, in cui ho cercato di raccogliere in sé molteplici tematiche, per non dimenticare poi il tema della crociata dopo la crociata. Cito il titolo di un libro recente, o delle cosiddette crociate tardive, di cui si è parlato tanto, soprattutto nell'ambito della storiografia francese. Nulla di tutto questo. Si tratta di crociate a tutti gli effetti. Mi riferisco alla crociata dopo il 1291, data topica che vede la città di Acri in Terra Santa a cadere sotto i colpi del sultano Mamelucco e avviare una sorta di rielaborazione dell'idea stessa di lì a poco arriveranno i turchi ottomani, la crociata si trasformerà in qualcosa di diverso. No, non si tratta di crociate tardive. Si tratta di tutti gli effetti di crociate. Con obiettivo differente da quella iniziale, da quella che ha costituito il prototipo, non direi, non direi, basterebbe rileggere le lettere di Urbano II per comprendere come il Papa stesso, fin dal principio tenda a porre sullo stesso piano la lotta antiturca nell'Oriente Mediterraneo, in particolare in Anatolia, con quella antimora nella penisola iberica, che poi l'Ottocento chiamerà riconchista. In Asia, Turcos, in Europa, Mauros. La crociata nasce dunque ampia sin dal principio. Si canonizza perché Gerusalemme costituisce il fulcro, la stanzione divina sul buon operato del Papa legittimo, e così vi ho già svelato la mia lettura del ruolo di Urbano II nell'ambito della riforma della Chiesa. La stanzione gerosolimitana dà l'imprinting per alcune crociate successive, ma ricordiamoci che per la seconda bisognerà aspettare un cinquantennio e che nel frattempo ci sono altre operazioni anti-saracene da un'altra parte del Mediterraneo, che rientrano sempre nello stesso filone, ma che la crociata nasca una molteplice, fin dall'inizio, questo mi pare ormai assodabile, quantomeno. Nulla di strano dunque se essa cominci, nella sua elaborazione canonistica di cui dicevamo prima, a diventare effettivamente uno strumento per il corpus christianorum, diretto non esclusivamente al recupero di Gerusalemme, che rimane il prototipo, ma diretto verso quegli obiettivi che stabilisce il Papa, un po' come Roma e dove va il Papa, no? Si dice la crociata è quel che stabilisce il Papa, in una dialettica perenne, però questo è stato un po' l'inghippo storiografico, con le attese del laicato cristiano. Ecco allora che si comprendono i moti popolari, si comprende la lotta antiturca, si comprende il rinascere della crociata in un secolo come il Quattrocento, che vede gli umanisti occupati invece a discorrere di teologia morale, di natura, di... no, a discorrere di crociata. Il tema della crociata è il tema maggiormente dibattuto all'interno dei testi umanistici. Lo hanno dimostrato alcuni studiosi, Nancy Bisacca, ad esempio, con delle indagini di linguistica computazionale, potremmo dire, è il tema veramente più ricorrente in età umanistica, da cui poi prendo il largo per andare a vedere come esso sia elaborato nel Cinquecento, nel Seicento, più a livello storiografico devo dire che fattuale, non essendo io un modernista, sono un modernista amateur, come molti medievisti, perché ci piace il lungo medioevo, la leg off, diciamo così, però in quel caso io mi concentro soprattutto sull'elaborazione storiografica, l'attenzione alle fonti, l'orientalismo, il medievalismo, questo mix, anzi questo mix tra medievalismo e oriente che costituisce appunto gran parte del filo conduttore del nostro Ottocento, fino anche al cinema novecentesco, quando il tema della crociata è ripreso molto spesso in questi termini. Allora io, Maurizio, concluderei, ti lascio la parola, semplicemente enunciando velocemente, ripetendo, perché è ripetita Juvent, qual è appunto la suddivisione di questo volume che spero possa essere di interesse per pubblico più vasto, ma anche di agile studio per chi voglia invece intraprendere un approfondimento specifico di qualcuna di queste tematiche che vi ho brevemente annunciato. Naturalmente ho un'ultima introduzione in cui cerco di spiegare il concetto di crociata, nelle sue varie accezioni, compreso il tema della crociata oltre la crociata, di cui ho appena parlato, il rapporto con il Jihad e la guerra santa, di cui vi ho detto, vi discendo. Una prima parte in cinque capitoli dedicata appunto all'idea che si sviluppa prendendo le mosse molto indietro nel tempo, dal rapporto tra il cristianesimo e la guerra, quindi dal fondamentale Bellum Justum Agostiniano, per andare a effettuare un focus specifico sulla riforma della Chiesa, che come penso abbiate capito è un momento topico, fondamentale per l'elaborazione dell'idea stessa che starà dietro la crociata, analizzare, dare uno sguardo al Mediterraneo, tra pellegrinaggio, commercio e conflitto, il contesto all'interno del quale si sito all'operato di Urbano II, anche intellettualmente, è un contesto prettamente mediterraneo che va approfondito. Lo sviluppo dell'idea è attraverso una serie di indiadi, crociata movimento, crociata istituzione, crux cismarina e crux transmarina, cioè la crociata in casa nostra e quella al di là del mare, passaggium generale, la crociata di tutto il popolo cristiano e passaggium particolare, quella compiuta da soli mercenari, perfidi saraceni, crudeli turchi, in bontà loro sono espressioni che trova nelle fonti, quindi i vari fronti della lotta mediterranea. In spiritualibus, in temporalibus, quindi vari aspetti anche concreti, come si contrappongono alle idee di fondo della crociata in sé. E un ultimo capitolo dedicato agli strumenti, che in certo senso è piuttosto innovativo, faccio solo presente che al momento non esiste ancora una raccolta di tutte le bolle di crociata emesse nel corso del tempo dal papato. Ci sono raccolte parziali, le più note sono ovviamente conosciute dagli studiosi. Mi sono sforzato di raccogliere le principali per cercare di comprendere come si sviluppa la disciplina sul voto crociato, l'indulgenza, la predicazione, l'organizzazione del consenso, il finanziamento, ecco, gli strumenti, le istituzioni, potrei dire, si dicevano anzi una volta. Questo è il contenuto della prima parte. La seconda parte è una storia corriva, che parte dalla prima crociata, analizza il fenomeno nel corso del tempo, in sette capitoli, spingendosi oltre, come si diceva, il 391, comprendendo tutto il 300, su cui stanno emergendo studi importanti di giovani studiosi, come Mike Carr, Simone Lombardo, che hanno pubblicato e pubblicheranno i loro lavori. La crociata nel 300 è ancora un elemento da approfondire a fondo. Paradossalmente è stata più studiata nel 400 che nel 300, per via dell'evento costantinopolitano per eccellenza, insomma. Il 300 è ancora una miniera di informazioni. Mi spingo fino al 5-600, giungendosi in sintesi in questa parte all'assidio di Vienna. Avrei potuto andare avanti ancora, ma ci vado di fatto nella terza parte, che è dedicata al mito. È una parte storiografica. L'ho voluto intitolare il mito proprio perché su questa storiografia che si basa e si è basato nel corso dei secoli l'elaborazione di un vero e proprio mito storiografico attorno alla crociata, che ne ha evidenziato alcuni aspetti rispetto ad altri. Cito solamente Gestadei per Francos di Bongars, che è stato fondamentale nel 600 per instillare l'idea che la crociata fosse stata soprattutto un fenomeno francese. Un'idea che ci siamo ritrovati poi sino a Grusset e sino ad altre sindesi del novecento. Allora, in cinque capitoli si parte dalle fonti. Quali sono le fonti che il crociatista conosce per poter affrontare l'argomento? Fronti letterari, cronachistiche, chanson di vario tipo, trattati sul recupero della santa, privilegi, atti notarivi. È un panorama assai basso. E poi si prosegue appunto con il 300 e il 400, la rielaborazione umanistica, le prime storie delle crociate disponibili, quella di Benedetto Accolti, su cui, che ha dato un po' di printing, che si basava però sulla grande epopea di Guglielmo di Tiro fondamentalmente, la nascita del paradigma tra 5 e 600, in particolar modo nel 600, e poi l'antico, su cui si innesta la crociatistica del novecento, a cui è dedicato l'ultimo capitolo. Allora, io ho parlato fin troppo a Maurizio, concludo dicendo che lo sforzo di questo libro, che spero sia apprezzato, è stato proprio quello di comprimere in un solo volume e informazioni reperibili in, beh, una quantità di volumi ormai divenuta quasi impressionante, anche se molto spesso a senso unico, molto centrata sull'aspetto bellico o istituzionale, direi, di comprimere quindi questa massa di informazioni in una sintesi aggiornata, ma anche di fornire al lettore e una sorta di, una sorta di prontuario di temi caldi, ecco, su cui va la pena sbattere la capoccia, varrà la pena sbattere la capoccia nei prossimi anni, e soprattutto come studiosi del fenomeno dal punto di vista italiano, ma naturalmente non solo, la comunità dei crociatisti è una comunità internazionale per eccellenza, che vede assieme studiosi di varia provenienza, vari paesi, di varie fedi, non fedi, religioni, non religioni, questa la bellezza di questa casa che mi ha colto e che in parte, in questo momento, sto contribuendo a tenere su, assieme al nostro presidente che è Jonathan Phillips, e quindi cercare di comprimere in poche pagine quelli che sono dei temi veramente caldi e importanti, ma anche fornire, questo lo ritengo estremamente importante, veramente concludo, una sorta di profondità storiografica al discorso. La parola storiografico fa sempre paura, soprattutto nel pubblico di lettori che vuole magari leggere qualcosa di non impegnativo, niente di tutto questo, la storiografia ci permette di avere profondità, di comprendere come le nostre idee si innestino su quelle di chi ci ha preceduto, controbattendole, confermandole, portandoli avanti. Insomma, è questo il nostro mestiere ed è questo ciò che ho al momento la fortuna di fare e del quale sono grato. Grazie. Grazie Antonio, grazie. Io avrei tantissime cose da chiedere, da approfondire per un argomento talmente vasto che potremmo starci qui una vita intera e non basterebbe. Quindi mi limito a ricordare il titolo per i nostri utenti e il titolo è semplicissimo. Le crociate, l'idea, la storia, il mito di Antonio Musarra, ovviamente, pubblicato dal mulino da pochissimo. Sono 336 pagine per 24 euro, quindi un costo assolutamente alla portata di molte tasche, diciamo, non di tutte, ma di molte sì. Io vi invito davvero di cuore a comprarlo se volete anche solo farvi un'idea approfondita e seria e documentata di che cosa è stato il fenomeno della crociata. Ti ringrazio davvero tanto di aver accettato il nostro invito e spero di incontrarti presto in presenza da qualche parte del mondo quando questa pandemia ci libera. Grazie ancora Antonio. Grazie, lo spero anch'io. Grazie a tutti e un saluto a tutta Italia Medievale. Grazie a tutti.